Ai punti avrebbe meritato la vittoria Lavellino che a Trapani resiste in dieci uomini per quasi un'ora dopo l'espulsione di Ricci e nel finale falisce con Vicentini due clamorose occasioni. La squadra di Marra impreca dunque per l'impresa spiorata al provinciale. Attente, Guardinga, Lavellino si affida ai polmoni di viscido in mezzo al campo per sostituire lo squalificato d'Angelo. Millisi si piazza sul versante sinistro di centro campo, mentre sul binario destro Comini viaggia a Meraviglia, costruendo la prima opportunità con una conclusione bloccata da Castelli. Il Trapani replica con un pallonetto di Pirrone fuori bersaglio, soprattutto con una combinazione tra Pirrone e Madonia, chiusa male dal bomber Granata. I lupi non stanno a guardare e quando ripartono possono far male. La dimostrazione arriva al venticinquesimo quando Comini serve Vicentini che non concretizza. Alla trentacinquesimo Ricci cintura Ficarotta e rimedia secondo cartellino giallo. Marra retra Millisi sulla linea difensiva e chiede maggiore sacrificio alla sua truppa che al trentanovesimo va vicino al vantaggio. Millisi verticalizza per Panatteri che sponda sulla sinistra e crossa nell'area del Trapani dove Viscido e Vicentini non trovano il pallone, su quale però si fionda Comini. Castelli abbassa la Sarcinesca e nega il gol all'Argentino. Brevidi in apertura di ripresa per i Biancoverdi sull'incursione di Madonia che spugge a Millisi, dribbla Marrocco, Marinaldi sbroglia la matassa. Marra tira fuori Panatteri e inserisce Riga ma i lupi non riescono più a ripartire e rischiano al 65esimo sul non missile di Calabrese deviato in angolo da Marrocco. Sempre il portiere dell'Avino sugli scudi tre minuti dopo su una conclusione di Madonia. Aumenta la spinta di Granata ma la difesa Irpina con gli attenti pure Rinaldi regge l'urto. Fanelli prende il posto di un combattivo Viscido mentre Rinaldi alza a bandiera bianca per Crampi, dentro caso al centro del reparto arretrato. Il finale di Marca Irpina con il Trapani scoperto infatti l'Avino ha ampie praterie per le accelerazioni di uno scatenato Comini che al 91esimo verticalizza per Vicentini che scatta sul filo del fuorigioco ma si fa anticipare da Castelli. Le impregazioni di Polè e compagni si spregano due minuti dopo quando sempre il tanker non ha l'istinto del killer e sciupa l'inverosimile. Prima si fa murare da Pagliarulo e poi calcia fuori 0-0 e tanti rimpianti per l'Avellino.